E' quanto è un fatto di castiglio? Nessuno ordina il decaffeinato come Gaston. Mi sfugge il senso ironico. Tirate fuori il libretto degli assegni e le carte di credito per il primo cartone di oggi, la grande vendita di Paperino! Quello non è Pocoyo, credetemi. Qualcuno può venire a vedere. Che cosa stai costruendo, Pocoyo? Cosa è quello? Sembra che non riesca a correre molto. Ehi ragazzi, c'è una donna di là! Andiamo! Ticcolish! 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 Grazie.